E' stata affidata a Maria Pia Ammirati la direzione di Rai Fiction, Ammirati scrittrice e giornalista di origini campane, ma castrovillarese d'adozione, tanti premi che ha preso nella città del Polino, premio Carnevale 2010 offerto dalla Proloco e premio We Build offerto dal Chivanis nel 2018. Il ritorno a Castrovillari, la possibilità di tornare tra amici anche, ma io qui sono cresciuta, ho già detto in un'intervista con voi, per me questa cosa importante è di essere cresciuta in un paese bello, sano, dove io sono stata molto bene, quindi intanto un ritorno. Poi i riconoscimenti sono sempre importanti, tutti i premi sono importanti, non c'è un premio più importante dell'altro, è sempre un riconoscimento che arriva e qualcuno ha pensato a te, quindi io sono molto contenta. Dalle 2014 è direttrice di Rai Tech e dal 2016 anche responsabile del contest Rai Play e inoltre consigliere di amministrazione di Rai Cinema, di Rai Pubblicità, del Teatro dell'Opera di Roma e membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Il Rai è entrata nel 1992, lavora per molti anni alle DSE, poi Radio Educational come curatrice, produttrice e conduttrice di programmi culturali. Nel 2000 approda a Rai 1 dove lavora come capo segreteria di rete, capo progetto, capo struttura e dalle 2011 al 2014 come vice direttore con delega sul Daytime. Quella di Rai Fiction viene considerata la poltrona più importante della Rai dopo quella dell'amministratore delegato. Congratulazioni dalla nostra redazione.